Il digitale è il futuro della medicina. Confimindustria ha presentato un modello di sviluppo della medicina digitale e della prevenzione di precisione. Nuove frontiere di un comparto sempre più rilevante in cui la Puglia può essere protagonista. Se ne è discusso durante un congresso organizzato a Bari. La Puglia sia dal precedente governo ma anche in continuità amministrativa da parte di questo governo, al momento risulta essere regione capofila per l'applicazione della telemedicina insieme alla regione Lombardia. Si sta andando avanti insieme all'Agenas e pensiamoci di fare un ottimo lavoro e di concluderlo pure in tempi brevi. Noi stiamo attuando tutto quello che è previsto nel PNR con la misura riguardante la sanità. È una parte importantissima. È rivestita dagli investimenti che sono stati previsti e programmati con l'accordo firmato dal presidente Emiliano già nel marzo del 2022. C'è che stiamo cercando in tutti i modi, in tutte le maniere di accelerare e di rendere operativo. C'è tutta l'informatizzazione e la digitalizzazione del sistema sanitario. Prima di tutto questo è il secondo appuntamento che noi come Confimi Industria Bari organizziamo su questi temi. Il primo l'abbiamo fatto quest'autunno sempre in Camera di Commercio dove abbiamo affrontato il tema della correlazione fra il cibo e la salute. Ora riprendiamo questo tema e lo allarghiamo al discorso della medicina digitale e della medicina di precisione. Il territorio ha bisogno di nuovi modelli di cura e prevenzione perché i dati dimostrano che si può fare meglio sicuramente la prevenzione. Immaginiamo in particolare quella che può essere utile per i pazienti cronici. Le innovazioni a disposizione oggi per questa nuova modalità di cura e prevenzione si fondano fondamentalmente sulla medicina digitale, quindi sistemi della telemedicina e dell'intelligenza artificiale.